Tutti i cani hanno odore di cane, perché quello che sono è inevitabile. Se offriamo loro un'alimentazione di qualità per garantire la salute della pelle e del mantello e se ci preoccupiamo di fornire loro le cure del manto di cui hanno bisogno in base alle loro caratteristiche, il loro odore sarà quello di un cane sano e non sarà apprezzabile, tranne in casi specifici, come quando si bagnano. In questo video di Malpidia passeremo il rassegno alle razze di cani che non puzzano, o in altre parole, che possono essere considerate le più pulite. Siete pronti? Barboncino Una delle loro particolarità è che il loro puelo non muta, ma richiede comunque una cura regolare. Sono animali intelligenti e vanno d'accordo con i bambini, tuttavia esiste un inconveniente che può aumentare il loro odore corporeo. Tendono a soffrire di dermatite atopica, che può portare a seborrea e, di conseguenza, ad un odore corporeo stantio. In assenza di dermatite è considerato un cane adatto a chi soffre di allergie. Bedlington Terrier Il Bedlington Terrier è un cane inconfondibile, grazie al suo aspetto particolare, che ricorda una pecora. Possiamo includerli nelle razze di cani che non puzzano o lo fanno con minore intensità, perché non mutano il loro mantello. Kerry Blue Terrier Il Kerry Blue Terrier è una razza di origine irlandese e di taglia media. Una delle caratteristiche più peculiari del suo aspetto sono le lunghe barbe, che richiedono una costante manutenzione e pulizia. Le sopracciglia e il mantello riccio, come indica il nome, sono di una tonalità bluastra. È incluso tra le razze di cani che non puzzano, perché, come negli esempi precedenti, non muta il pelo. È diffuso come cane da compagnia, adatto alla vita urbana, ma deve essere in grado di sfogare la sua enorme energia. Barbette Il Barbette è un cane di taglia media di origine francese. È un ottimo cane da compagnia e si adatta alla vita in città, a vivere con bambini e altri cani. In passato era un cane d'acqua da recupero e riporto. Spicca per il suo mantello riccio, che ricopre tutto il suo corpo, viso compreso. Questo mantello è impermeabile e gli proporziona protezione anche quando l'acqua è molto fredda. Si tratta di una delle razze di cani che non puzzano, poiché non muta il mantello. Epagnol Breton L'epagnol Breton rientra nella lista di cani che non puzzano perché ha un pelo non grasso. Ciò non significa che non richieda cure, ma non è difficile da gestire. Il Sevo è responsabile del caratteristico odore di cane. Quando è presente in basse quantità dunque, l'odore del cane sarà meno forte. È un ottimo cane da compagnia, docile, adatto agli ambienti urbani e capace di mantenere una convivenza felice con altri cani e bambini. Cane da pastore di Brie Il cane da pastore di Brie è conosciuto per il suo caratteristico lungomantello, che gli fornisce una buona protezione contro le condizioni atmosferiche avverse. Ai suoi esordi, questo cane di origine francese si dedicava alla sorveglianza del bestiame e trascorreva la sua vita all'aria aperta. Bavaro delle Fiandre Si tratta di cani robusti e grandi e possono raggiungere i 40 kg di peso. Sottolineiamo che non sempre accettano la presenza dei loro congeneri a causa della loro territorialità. Tuttavia, questo comportamento può essere risolto con un'adeguata socializzazione dal cucciolo. Possono essere inclusi tra le razze di cani che non puzzano grazie al loro pelo secco e opaco, che richiede una cura regolare. Cane d'acqua spagnolo Questi cani si sono adattati alla vita nelle città e sono cani che, ben educati, mostrano un ottimo carattere e una grande capacità di apprendimento. Vanno molto d'accordo con gli altri cani, ma è essenziale che abbiano la possibilità di fare tutto l'esercizio fisico di cui hanno bisogno, perché si tratta di una razza molto attiva. Appartengono alla categoria dei cani che non puzzano grazie al fatto che non mutano il loro mantello. Cão de água portuguesa Questo cane d'acqua è un po' più grande di quello spagnolo, poiché può superare i 25 kg di peso. Il cao de água portuguesa è intelligente, relativamente facile da educare e molto attivo, oltre che forte, leale e curioso. È incluso tra le razze di cani che non puzzano o che emettono un odore meno intenso, per lo stesso motivo delle pagnoles bretons. In altre parole, non muta il mantello. Ciononostante, il suo pelo è lungo e ondulato e ha bisogno di cure frequenti. La razza ha un taglio caratteristico, rasato sulle zampe posteriori e sulla coda, e lungo sul resto del corpo. Labradoodle Come indica il suo nome, è l'incrocio tra il labrador e il barboncino, o poodle. L'intenzione della sua creazione era quella di ottenere un cane che potesse essere un cane guida per le persone allergiche, approfittando la capacità dell'assistenza del labrador e del mantello che non muta del barboncino. I primi labradoodle nacero in Australia negli anni 80. Pesano fino a 35 kg e sono eccellenti con i bambini e altri cani. Imparano facilmente e si adattano alla vita urbana, anche se hanno bisogno di fare esercizio fisico a causa del loro alto livello di energia. Dicci, e tu? Stai pensando di adottare un cane? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima! Alla prossima!